E' una partita dura dove loro hanno fatto un ottimo risultato ad Avellino e rimonta, quindi dovremmo dare il tutto per tutto. Per oggi sono stato bene, per il resto niente, c'è da pensare solamente al crotone calcio ora e a salvarci il prima possibile. In questa settimana ci siamo allenati sempre la mattina, ci siamo allenati in vista dell'orario che andremo a giocare alle 12 e mezza. Abbiamo mangiato anche prima rispetto al solito e gli allenamenti sono come tutte le settimane molto intensi e duri. Sì, all'inizio non è stato facile, ti dico. Venivo da tre anni di Lega Pro, venivo e è tutta un'altra cosa, è molto più tecnico come livello della Serie B. All'inizio mi sono trovato in difficoltà, però grazie al mister e al suo staff che mi hanno spronato ogni giorno dopo giorno a migliorare sempre. E spero di fare bene fino a fine dell'anno. Sì, questa è stata giusta, pure il direttore dice sempre che l'uscita deve diventare il fortino. Credo che ci stiamo riuscendo, in trasferta abbiamo ottenuto un punto a Cittadella. Veniamo da tre risultati utili consecutivi, quindi speriamo di riuscire a fare il quarto. Grazie. 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 Grazie.